Doppio incidente sul lavoro ieri mattina, il primo all'interno di un'azienda tessile di Quaregna, Cerreto, dove un operaio 25enne della zona, impegnato alla lavorazione in linea, è rimasto con un arto parzialmente schiacciato tra i rulli del macchinario al quale era addetto. È stato immediatamente soccorso da un equipaggio del 118 e trasportato in codice giallo presso l'ospedale di Ponderano, dove si trova tuttora ricoverato a causa delle lesioni riportate. Oltre ai carabinieri della stazione di Cossato sono intervenuti i funzionari dell'ospresal che hanno proceduto alle verifiche del caso. Poco prima si era verificato un altro infortunio sul lavoro, questa volta all'interno di una ditta operante nella zona industriale di San Giacomo, dove il titolare di un'azienda fornitrice, intento allo scarico di prodotti dal proprio furgone, ha perso l'equilibrio ed è caduto accidentalmente dal mezzo, battendo anche il capo a terra. Il malcapitato, un uomo residente nel milanese, è stato soccorso dal personale del 118, trasportato all'ospedale di Ponderano, dove si trova ricoverato in osservazione. Sul posto anche qui sono intervenuti i carabinieri della stazione di zona e di funzionari dell'ospresal.